Il tema del ricongiungimento familiare per i beneficiari di protezione internazionale è stato al centro della conferenza finale del progetto Famiglia, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020. Alla conferenza, ospitata dalla Casa Internazionale delle Donne, intervenuti tra gli altri la Presidente della Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali, Silvana Mordeglia, la Consigliera Segretaria del Consiglio Nazionale, Maria Concetta Storaci, i massimi vertici del Consiglio Italiano per i Rifugiati e del Centro Studi e Ricerche IDOS. Ecco, dalla voce dei protagonisti, i più significativi elementi emersi. Soprattutto in questa fase in cui l'immigrazione è oggetto di distorsioni, di rappresentazioni manipolate e c'è una narrazione dell'immigrazione molto falsata, restituire una immagine più veritiera, non solo degli immigrati in generale, ma in particolare dei titolari di protezione internazionale è qualcosa di particolarmente urgente. E poi c'è anche un secondo motivo, il fatto che trattandosi nel progetto della possibilità di dare ai titolari di protezione internazionale la possibilità di conoscere quali sono i canali appropriati anche sulla base di buone prassi internazionali per il ricongiungimento familiare, ha significato e significa restituire a questa fascia di migranti la possibilità di un'integrazione che viene orientata alla normalizzazione della questione dell'immigrazione. Il concetto di integrazione ha una premessa e il tema di cui si è occupati è collegato al ricongiungimenti familiari. La parola ricongiungimenti familiari evoca un altro concetto importante che è quello delle buone pratiche, perché naturalmente qui noi tendiamo a verificare buone pratiche tra tre paesi, l'Italia, l'Olanda e la Scozia. Naturalmente queste buone pratiche di ricongiungimenti familiari sono la precondizione per poter realizzare una integrazione. È stato detto in maniera molto efficace che il ricongiungimento familiare si collega anche al tema dei corridoi umanitari e si collega anche alla possibilità di fare progetti di vita nel paese dove si costituisce, si fonda e si ricongiunge la famiglia. Quindi questo vuol dire costituire delle cellule vive di una società sempre più integrata, multiculturale, una civiltà che praticamente risponde ai canoni sia di costituzione europea che di costituzione italiana. È stato somministrato un questionario all'universo degli assistenti sociali iscritti all'ordine e di questi 405 ci hanno dato delle risposte compiute su questo questionario che era piuttosto articolato con parecchie domande a risposta aperta, che ci ha permesso di definire un primo quadro dei colleghi che si occupano dei ricongiungimenti. Questi colleghi che cosa ci dicono? Ci dicono che non è facile occuparsi di questo fenomeno perché comunque come in molti altri ambiti di intervento noi ci troviamo spesso come assistenti sociali su un crinale. Un crinale che vede da un lato la nostra attività professionale collocata all'interno di organizzazioni, dall'altro un richiamo sempre presente alla responsabilità della professione che ci fa andare oltre le manchevolezze, le difficoltà che si incontrano costantemente quando si è all'interno di organizzazioni che hanno una difficoltà ad essere coerenti sul mandato e organizzate in modo da rispondere davvero a quelle che sono le istanze delle persone. La ricerca che abbiamo presentato oggi e sulla quale abbiamo lavorato per circa un anno insieme a IDOS e a CIR è senz'altro una ricerca che mette in luce non solo gli aspetti rilevanti dell'approccio del servizio sociale professionale rispetto ai beneficiari ma anche l'aspetto che riguarda gli stessi beneficiari che nel confronto con i nostri colleghi nei servizi del terzo settore e nei servizi pubblici degli enti locali si approcciano con una richiesta di interventi e di benefici nella fase che precede la richiesta appunto di ricongiungimento con i familiari quindi quando ancora sono soli nel percorso che riguarda l'aspetto burocratico e amministrativo e nel momento in cui il nucleo familiare si riunisce e quindi passa al secondo momento che è quello della integrazione. I titolari di protezione internazionale non hanno la possibilità di tornare nel paese e rincontrare i propri parenti e questo significa che sono davanti a una rottura completa della propria identità personale, familiare, affettiva ed è lì che è più necessario e urgente mettere una toppa, se vogliamo, che speriamo non sia una toppa ma mettere una toppa perché queste persone riconquistino una propria identità globale. C'è molto bisogno nel nostro paese di normalizzare una questione che negli ultimi anni e anche dalla politica è stata invece molto utilizzata e molto anche arroventata. Identificare il tema dell'immigrazione con il business dell'immigrazione è un'impostazione totalmente deforme perché significa prendere spunto da un caso su mille o su un milione e costruirlo come modello negativo da combattere. Un ricongiungimento significa per quel beneficiario che magari si è allontanato dal proprio paese d'origine da diversi anni non solo ricongiungersi ma riconoscersi, riconoscere la propria famiglia che magari ha lasciato in un ambiente diverso con delle istanze diverse. La ricerca ci ha anche fatto vedere il momento di grande disagio e la necessità di supporto da parte dei colleghi proprio nell'incontro con i parenti che tornavano nel chiedersi sarò sufficientemente in grado di continuare a amare, sarò in grado di continuare una relazione, saranno diversi, mi vedranno in modo diverso. Ecco, l'importanza di questa ricerca è quello di avere messo a nudo ed è la prima volta in Italia che c'è una ricerca sul ricongiungimento familiare e del ruolo del servizio sociale professionale e di avere messo a nudo da una parte il nostro operato, le nostre necessità come servizio sociale professionale e la relazione importantissima con i beneficiari e coloro i quali quindi sono in una condizione ormai di riconoscimento di protezione internazionale in Italia. Le migrazioni riguarderanno ancora il nostro paese per numerosi anni e noi auspichiamo che la politica e anche tutti i soggetti del terzo settore, tutti gli operatori, tutti quelli che hanno a cuore il nostro paese e soprattutto la coesione sociale del nostro paese si rendano conto che siamo sempre più orientati a società aperte, a società multiculturali e sappiano adottare tutte quelle misure dell'integrazione che sono mirate non tanto ai migranti ma a tutelare e a promuovere proprio la coesione sociale dell'Italia. Pensare che chi vive a sostenere l'accoglienza in un certo paese e l'integrazione sia sostanzialmente uno schermo finto, un mantello che si indossa in maniera ipocrita. Noi sappiamo invece che questo mondo è uno dei mondi tra i più ricchi, fatti da volontari, da persone che impiegano tutte le loro energie per questi valori e naturalmente brutalizzarli in questo modo è terribilmente sbagliato. Per fondazione un primo passaggio è anche rispetto alla vocazione specifica e al mandato che il Consiglio nazionale ci ha dato, cioè quello di implementare le competenze della professione da un lato e dall'altro gli approfondimenti di ricerca, che cosa ci portiamo a casa con questa iniziativa. Indicazioni su quello che occorre mettere in pratica per offrire competenze specifiche nel settore. A conclusione della conferenza, anche un confronto tra le esperienze d'Italia, Olanda e Scozia in tema di ricongiungimenti attraverso un'analisi dei servizi di sostegno specifici previsti da questi tre paesi.